Come va la torre Vragia? Cerco purtroppo gli esami che dovevo fare a fine campionato perché devo recuperare, devo avere dei giorni in più di recupero che in questo periodo non ce l'ho. Però tengo dura e continuiamo così. Un'ultima domanda, come sta proseguendo l'università del playmaking? Hai di fronte a te un grande maestro come Daniele Parente. Io playmaker come lui non ne ho mai avuti, sto imparando qualsiasi cosa sia fuori dal campo che dentro il campo. Tutti i consigli che mi dà, sono sempre attaccato a lui. E seguo il mio playmaker, il migliore che c'è per adesso che l'abbiamo incontrato. Una dedica particolare? Io dedico tutto ai miei genitori perché in questo periodo dove non sono tanto a posto fisicamente mi danno sempre una mano e mi spingono sempre a dare il meglio. Grazie a loro, per fortuna.